Dopo alcune settimane di inquadramento nella fascia di rischio minore, a partire da oggi le marche sono ufficialmente tornate in zona arancione, con la conseguente riattivazione delle restrizioni e delle regole in vigore previste per tutta la regione. Oltre alle scuole superiori per cui è stata predisposta la misura della didattica a distanza fino al 5 marzo, con l'ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli, tornano a fermarsi anche bar e ristoranti. Per le attività legate al mondo della ristorazione, torna attivo dunque il diritto di poter ospitare clienti all'interno dei propri locali, mentre saranno garantiti i servizi di asporto e di consegne a domicilio. In gennaio abbiamo lavorato 9 giorni, in febbraio abbiamo lavorato 28 giorni, solo pranzo. Adesso marzo non si capisce, è un anno che siamo praticamente sotto questa azione pandemica. Qui il problema reale è che anche l'asporto, siamo in una piccola cittadina, non è che riesce a fare chissà che fatturato, quindi non riesci nemmeno a volte a pagare la bolletta. Per quello che riguarda la zona arancione, adesso non si capisce nemmeno fino a quanto durerà, quindi è tutto un'incognita. Sai, gestire un'attività come quella della ristorazione, accendi e spegni dall'oggi al domani diventa difficile, un minimo di programmazione almeno ce la dovrebbero dare. Anche se riesci a fare il pranzo, un buon pranzo, diciamo che fai il 35-40% del fatturato, quello potrebbe servire per coprire le spese e non indebitarsi ulteriormente, perché ripeto è un anno, qui abbiamo preso tutti i soldi, ci siamo indebitati, siamo andati avanti, ci hanno garantito che potevamo stare aperti, ci hanno chiuso, per salvare Natale ci hanno chiuso, adesso per salvare Pasqua, se ci chiudono un'altra volta, insomma non so cosa dobbiamo fare. Ad abbassare le saracinesche saranno anche le attività inserite all'interno dei centri commerciali, eccezione fatta per edicole, farmacie, tabaccai, librerie, alimentari e fiorai. Chiusi anche i musei, mentre rimarranno aperti i negozi al dettaglio, i parrucchieri, i centri estetici e i mercati, anche quelli non alimentari. Nessun cambiamento e dunque nessuna attuale riapertura per impianti sciistici, piscine e palestre. Sul fronte spostamenti saranno consentiti quelli all'interno del proprio comune, mentre sarà vietato spostarsi sia dal proprio comune di residenza che da una regione all'altra, salvo per motivi di lavoro, studio, salute o necessità. Piccola deroga per i comuni con 5.000 abitanti, nei quali saranno consentiti spostamenti per una distanza non superiore ai 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi di provincia. Sarà possibile effettuare visite a parenti e amici una sola volta al giorno, soltanto all'interno del proprio comune e nel limite di due persone, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Ancora attivo anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.